Ragazzi, non la Supercoppa alla Juve! Questa è la Juve che vogliamo vedere! Questa qui, questa qui! Una Juve che gioca a viso aperto! Una Juve che gioca senza cacarsi addosso! Questa è la Juve che vogliamo vedere! Grande Juventus! La Juventus mette a capo l'Inter! Con un gol di Morata nel finale! E un gol del grandissimo e sempre inimitabile Cristiano Ronaldo che ci è mancato come il pane in questi giorni! Inquadriamolo qua davanti! Nono Supercoppa italiano ha vinta! Grande Juventus! Bellissima risposta alla sconfitta indegna che abbiamo subito contro l'Inter l'altro giorno! Bellissima risposta! Questa è la Juve che vogliamo vedere! E soprattutto la differenza l'hanno fatta l'innesto di Arthur che è un grande centrocampista e McKennie! Pirlo! L'hai visto che Arthur e McKennie devono giocare tutti i giorni! Tutte le partite devono giocare! Arthur ha la palla ingollata ai piedi! Pochissime volte l'ha messo stasera! E McKennie è un motorino per pepo! C'è stato anche il grande rientro di Quadrato che ci è mancato come l'acqua! Quadrato ci è mancato! Variale! Valla a prendere nel culo! Maledetto! Ma ci avete gufato fino alla fine! Ci avete gufato! Ci avete gufato sempre alla fine! Ci avete gufato! Maledetto se stasera ha fatto una grandissima partita! Una grandissima partita! E abbiamo vinto la nona Supercoppa di fila! Contento anche per pirlo perché Possibilmente lo scudetto non lo vinceremo! Ma ve l'abbiamo messo nel culo! Abbiamo vinto la Supercoppa italiana! La nona Supercoppa italiana! E a zero titoli non ci restiamo! Ciao a tutti! E sempre Forza Juve!